Se avete un'azione sul mercato americano c'è la doppia tassazione Ma se io compro e vendo azioni USA c'è la doppia tassazione? Sì, se un conto in regime amministrato posso dormire tranquillo Allora sì, puoi dormire tranquillo perché ci pensa la banca Ma comunque c'è la doppia tassazione Ok, quindi se sei in regime amministrato Tu dormi tranquillo perché nessuno ti verrà mai a dire beh Ok, infatti nel regime amministrato volendo tu puoi anche non dichiarare niente Cioè non dichiarare al commercialista, non dirgli niente Se li hai in regime amministrato ci pensa la banca O la banca o il broker o chi è in regime amministrato Ti fa anche direttamente le pratiche per la doppia tassazione Se ti rivolgi al tuo medico di base per un problema di salute Come fa il medico a capire come poterti aiutare? Nella maggior parte dei casi la prima cosa che fa è invitarti a fare le analisi del sangue Perché le analisi del sangue permettono al medico di capire su che cosa basare un'eventuale cura Per risolvere il problema che stai vivendo in questo momento Bene, in ambito finanziario nessuno segue questo approccio di diagnosi del problema e definizione della cura Approccio che però è la normalità in altri contesti Invece in piano finanziario questo è il nostro modo di intendere la finanza personale E per questo abbiamo creato un servizio chiamato Check Up Finanziari Un servizio essenziale per capire quali sono i punti di forza della tua gestione finanziaria Eventuali punti di debolezza E trovare soluzioni pratiche per poter risolvere gli eventuali punti di debolezza Hai la possibilità di prenotare il tuo Check Up Finanziario ad un prezzo scontato del 50% fino a domenica Se vuoi maggiori informazioni clicca il link che trovi qui in basso o in descrizione di questo video Quando aprite un conto su un broker ve lo chiedono che rapporti avete con gli Stati Uniti Cioè se siete cittadino americano, US person Insomma ci sono tutta una serie di procedimenti burocratici proprio per fargli capire come gestire la doppia tassazione Che però c'è Quindi se avete un'azione sul mercato americano c'è la doppia tassazione Non è propriamente doppia perché poi ci sono degli accordi Quindi non pagate il 26% italiano più il 15% americano No perché poi lì è un po' più complicata Comunque ci sono degli accordi Esatto e ci sono degli accordi e quindi si fa un forfait Quindi si paga che ne so il 35% e poi si mettono d'accordo lo Stato italiano e lo Stato americano su come dividerselo Però comunque a questo pensa Se sei in regime amministrato sì, pensa tutto alla banca Quindi dormi tranquillo però occhio che la stai pagando